Po part! Con un foglio e una matita, i tuoi eroi prendono vita! Oggi disegniamo Leonardo! Per prima cosa concentriamoci sul personaggio! Leonardo è il leader delle tartarughe ninja! Ritraiamolo quindi fiero e pronto all'azione, ma anche sorridente! La sua vera forza è saper mantenere la calma! Una volta abbozzata la posizione, ripassiamo le linee principali, sovrapponendo un foglio al nostro schizzo iniziale. Potremmo così facilmente correggere piccoli errori e migliorare il nostro disegno. Piano piano, la figura si arricchisce di lettari. Ma perché Leonardo è il capo delle tartarughe ninja? Perché Leonardo è esperto in strategia, in tattica e sa sempre prendere la decisione giusta. In più ama la tradizione giapponese, ama la cultura zen e ama allenarsi. È un vero maestro nelle arti marziali. Un combattente senza paure. Un guerriero che crede nella lealtà e nell'onore. Lo sanno tutti. Leonardo trova sempre il lato positivo in ogni situazione. Dalle sconfitte impara lo spirito del samurai. Dagli allenamenti impara lo spirito del sacrificio. E dai suoi fratelli folli e impulsivi impara lo spirito di sopportazione. Questo è Leonardo. E ora colore! Il disegno prende vita e inizia il divertimento. Le tartarughe ninja ti aspettano tutti i giorni su Pop.